Musica Benvenuti al terzo appuntamento di Startup d'Impresa. Durante i primi due incontri abbiamo focalizzato la differenza di tecnologia che c'era ai tempi di mio nonno ed oggi. Nel secondo appuntamento abbiamo visto come i generatori di occupazione, gli storici generatori di occupazione in Italia si sono pian piano esauriti. Mi riferisco alla pubblica amministrazione, all'industria e anche al terziario avanzato che è entrato nel momento in cui i primi due si sono esauriti, già a partire dagli anni 70, e che oggi sta vivendo una ulteriore grande trasformazione di cui dobbiamo prendere atto ed avere conoscenza. Per quale motivo? Perché nel terziario avanzato, che è quel settore che in qualche modo negli ultimi anni ha sostituito la pubblica amministrazione come generatore di occupazione dell'industria, questo terziario avanzato è stato investito da un'ulteriore innovazione tecnologica. Basti pensare al fatto che comunque oggi ci confrontiamo addirittura con l'intelligenza artificiale. Quindi cosa è successo negli ultimi vent'anni? Pubblica amministrazione non assume più e grazie alla tecnologia oggi rispetto a vent'anni, trent'anni fa riesce a fare più cose anche e soprattutto con il supporto dei computer. L'industria ha espulso mano d'opera e ha fatto entrare i robot e il terziario avanzato, che rappresentava anche in qualche modo una valvola di sfogo, è stato investito appieno da questa tecnologia. Cosa bisogna fare? Beh, innanzitutto prendere atto che noi dobbiamo avere delle competenze, acquisire delle competenze che, sino a qualche tempo fa, erano assolutamente inimmaginabili. Ciò non significa andare a frequentare dei master post-universitari, assolutamente, ma bisogna già, sin dai primi passi nel mondo della scuola, avere conoscenza di alcuni fattori fondamentali. La tecnologia, poi ancora la formazione imprenditoriale e la gestione aziendale. Per portare un esempio, immaginate che in questo momento, in Finlandia, da anni, la formazione imprenditoriale viene offerta addirittura ai bimbi dell'asilo, che frequentano l'asilo. Quindi, in buona sostanza, noi dobbiamo avere chiaro che in un prossimo futuro, cioè domani mattina, dobbiamo avere una conoscenza di questa innovazione e utilizzare questa innovazione all'interno del nostro futuro lavoro.